Sarà inaugurata giovedì 12 settembre l'installazione Lighting Flowers Bagnoli, opera di graffiti digitali dell'artista Franz Cerami, che illuminerà alcune strutture industriali dismesse dell'ex area ital cedar. Lighting Flowers Bagnoli fa parte di un progetto internazionale che si chiama Lighting Flowers, che è un progetto di rigenerazione urbana delle periferie del mondo. Noi abbiamo incontrato i cittadini di Bagnoli in questi giorni per confrontarci con loro, per chiedere quali sono le aspettative e erano tutti molto contenti che questa cosa stesse accadendo e che finalmente ci fosse un segnale forte di impegno per la rigenerazione di Bagnoli. L'iniziativa è stata presentata nell'auditorium della Porta del Parco. L'intervento di arte pubblica è stato promosso dal sindaco Gaetano Manfredi nel ruolo di commissario straordinario per Bagnoli, in collaborazione con Invitalia. Grande opera di arte pubblica, di illuminazione artistica dell'archeologia industriale di Bagnoli in corrispondenza con l'accelerazione degli interventi di bonifica e di realizzazione del piano di recupero ci sarà anche questa mostra a cui i cittadini potranno accedere con un autobus che consentirà anche di riavvicinare i tanti a quest'area che è stata chiusa per decenni e che oggi noi riapriamo. Da un lato operativamente facendo le cose che servono, bonifica e sviluppo, rilancio della nostra bellissima area di Bagnoli e dall'altra questa bella installazione pubblica che è veramente molto emozionante. L'installazione resterà nel sito industriale fino al 12 novembre. Potrà essere visitata con l'autobus City Sightseeing Napoli